Sul caso Cancellieri il Movimento 5 Stelle insiste perché se ne discuta anche al Senato. È stato confermato anche oggi in aula che il 27 ci sarà il voto sulla decadenza del senatore Berlusconi. A seguire il Movimento 5 Stelle è sempre più convinto di poter voler chiedere la calendarizzazione per la sfiducia al Ministro Cancellieri. Non ci fermiamo, non attiviamo quello che è uscito fuori dal Parlamento, dalla Camera dei Deputati.